Vedo che vi state collegando, siete tantissimi, in questo momento siete più di 260. Io sono Michela Di Biconto di Formes PA e vi do il benvenuto a questo 28esimo webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di competenze digitali per la PA e in particolare anche della consultazione sul syllabus sulle competenze digitali che attualmente online è aperta fino al 21 dicembre. Il webinar durerà un'ora e trenta e oggi abbiamo con noi Elio Gullo e Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica e Gianfranco Andriola e Salvatore Marras di Formes PA. Allora io prendo intanto un po' di minuti di questo tempo per farvi una introduzione sul ciclo di webinar dell'innovazione digitale che si sta svolgendo da novembre 2017 a oggi con l'obiettivo proprio di agevolare il lavoro delle amministrazioni nella trasformazione digitale, nella modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, cosa che ci viene richiesta sia appunto dalla contemporaneità ma anche dalla normativa italiana e europea che ci porta a fare innovazione, a portarci al livello degli altri paesi europei. Il tema di oggi sulla loro competenza digitale è un tema fondamentale proprio per far sì che le amministrazioni siano in grado di agire attivamente nel proprio lavoro e portare innovazione, quindi never stop learning e ever top learning. Oggi parleremo appunto del SIL, la BUS e dell'area dei competenze che sono richieste ai dipendenti della pubblica amministrazione, parliamo di competenze di base che però riguardano aspetti anche poliedrici della formazione, non solo una tematica specifica ma tematiche anche molto variegate, ovviamente non dobbiamo essere esperti di sicurezza ma sapere quali sono gli elementi base per capire quando ci stiamo comportando in maniera sicura o meno. quindi entrando nel dettaglio del programma di oggi abbiamo Elio Cullo che ci parlerà del progetto competenze digitali per l'APA e Valentina Albano che ci parlerà del SIL, la BUS per le competenze digitali che appunto attualmente è in consultazione e quindi ci farà vedere quello ci presenterà lo schema di questo SIL, la BUS e gli obiettivi e Gianfranco Andriolo invece ci parlerà proprio della consultazione online, quindi di come ognuno di noi può intervenire su questo SIL, la BUS e dare un contributo attivo per far sì che il SIL, la BUS sia il più possibile aderente alle esigenze della pubblica amministrazione. Chiuderemo poi con Salvatore Maras che ci parlerà dal SIL, la BUS alla formazione sulle competenze digitali, come da quest'analisi delle competenze che i dipendenti della pubblica amministrazione potranno fare attraverso questo SIL, la BUS per poi arrivare a vedere quello che è il gap formativo e quindi fare formazione sugli skill su cui si è meno forti. Vi ricordo che potete utilizzare la chat per porre le domande ai relatori, le selezioneremo e cercheremo di rispondere quanto più possibile alle domande e che la registrazione materiale degli eventi sarà pubblicata su Eventi.pa, sulla pagina dell'evento, proprio questa qua, quindi qua troverete i materiali e la registrazione dell'evento. Vi preannuncio che ci sono due webinar in programma per le prossime settimane, sempre nel ciclo Innovazione Digitale. Il 13 novembre abbiamo un webinar dedicato a un modello di design per i siti web dei comuni italiani, quindi Team Digitale e Agit presenteranno un prototipo per il disegno dei siti web dei comuni italiani, un tema molto importante visto che i comuni hanno anche spesso pochi fondi per questo tipo di progetti di design, quindi penso che sia molto utile, abbiamo la testimonianza del comune di Cagliari che ci presenterà la propria esperienza e il 20 novembre invece Comunica Italia parleremo di promozione di servizi online e di guida e consigli e kit per le strategie di comunicazione e marketing e storytelling nell'evento. Quindi vi invito anche da subito ad iscriversi via questi webinar se vi interessa. A questo punto vedo che siete 370, io direi di cominciare entrando nel vivo del webinar di oggi, quindi chiedo al dottor Gullo di attivare la propria webcam e il microfono e entriamo nel vivo del tema di oggi con la presentazione del progetto sulle competenze digitali. Benissimo, vedo che ha attivato la webcam, vediamo se funziona il microfono. Mi sentite? A lei la parola, grazie. Buongiorno e grazie ai numerosi partecipanti, qua li vedo scorrere verso i 400, quindi stiamo andando molto bene. Intanto vi ringrazio. Ringrazio innanzitutto il Formez per averci affiancato in questa attività, intanto nell'attività di rendere pubblico il syllabus in modo tale che il maggior numero di possibili colleghi, sembra giusto dire colleghi perché è da loro che mi aspetto le maggiori sollecitazioni e possibili richieste di modifica. Vorrei far notare che un'attività di questo tipo, cioè quella di provare a descrivere quali sono le competenze che ci si aspetta da un dipendente pubblico su un ambito, in questo caso chiamiamolo quello del digitale, che è un ambito abbastanza vasto, è un'esperienza che in Europa non ha fatto ancora nessun paese. Non che questo sia un vanto, noi la stiamo facendo perché siamo arretrati, non perché siamo avanzati, però non per lodarci troppo, è una cosa abbastanza non comune che senza guardare il diverso livello amministrativo, quindi di ammissione centrale o locale, ASL o ministero, quindi soggetti che danno servizio, quelli che fanno poli, sì, abbiamo ritenuto opportuno individuare un ristretto numero di competenze, come vedrete, se avete già visto in sillabo, sono cinque macro aree, che a nostro avviso devono essere in portato comune di ogni dipendente pubblico, indipendentemente dal fatto se nel corso della sua giornata lavorativa li debba utilizzare o meno. Farò spesso uso di metafore per facilitare il ragionamento, quindi a volte possono sembrare banali, ma se ci capiamo tutti sul perché e sul senso di questa iniziativa forse riusciamo tutti a dare un contributo migliore. Comincio con la più stupida delle metafore, tutti noi abbiamo sicuramente uno smartphone o guidiamo un'automobile o siamo stati in un'automobile. Bene, quando con l'automobile passiamo il casello autostradale, che scegliamo di passare con il telepass oppure no, quindi prendiamo il biglietto eccetera, noi tutto quello che accade dietro a questa catena di mi dai un biglietto e io dopo ti pagherò all'uscita, il cosa succede non lo sappiamo, non dobbiamo essere dipendenti dell'autorità autostrade, magari in questo periodo nessuno vuole essere, però a parte la battuta diciamo, non c'è bisogno di conoscere il meccanismo di funzionamento della bigliettazione autostradale per andare in macchina e fare un tratto di autostrada. Sappiamo che c'è qualcosa, quindi sappiamo che dobbiamo ritirare un biglietto e poi alla fine dell'autostrada quando usciamo al casello pagare. Tutto quello che viene in mezzo non ci interessa se guidiamo la macchina. Esattamente quando usiamo uno smartphone, il perché e per come ci sono delle app a bordo è che se clicchiamo su quella che attiva la rubrica, ci saranno dei numeri telefonici, adesso come la technicalities che è stata utilizzata dal fornitore per farci scrivere nome, cognome, indirizzo, email e cellulare, non ci interessa tanto, sappiamo che serve a questo. Ora, due metafore stupide, ma non so quanti di noi, io il primo, hanno la stessa familiarità. Quello che vorrei con voi condividere è che lo spirito non è quello di creare uno strumento con cui ciascuno di noi con un piccolo test, con un po' di domande, scopre di non conoscere i dettagli tecnici di un sistema informativo. non ci interessa questo, esattamente come non ci interessa vedere cosa c'è dietro lo schermo del cellulare. Quello che a me interessa come dipendente pubblico e che avrei piacere che interessasse a tutti voi, poi ai vostri capi pure, ma intanto a noi, è quello di avere la dimestichezza con gli strumenti del lavoro quotidiano esattamente simile a quella che noi abbiamo quando utilizziamo uno smartphone, vengiamo in autostrada o facciamo funzionare una lavatrice, non dobbiamo essere produttori di, o sapere che c'è dietro. C'è una piccola interfaccia, dobbiamo sapere cosa c'è dietro e come funziona, quali sono gli effetti che vengono prodotti. Giro un pochino questo slide perché è bruttissimo vedere il progetto. Quello che dovevamo fare era questo, quindi intanto avere un set comune condiviso di competenze di base, condiviso tra tutti, in modo tale che indipendentemente da dove si lavori, come capita in molti altri ambiti, la competenza minima sul digitale sia diffusa. La competenza digitale di cui parliamo, attenzione, non è tanto quella, anzi non è per nulla quella, degli specialisti IT. Non ci interessa quelli che lavorano nei sistemi informativi, chi parla lo ha fatto per due o tre volte il capo dei sistemi informativi. La formazione per gli specialisti IT aspetta un altro organismo che è l'Agenzia per l'Italia digitale e attiene ad altri ambiti e in ogni caso, giusto per tiro un po' di numeri, sto escludendo i 950.000 insegnanti, il resto dei dipendenti pubblici di tutti gli insegnanti sono circa 2 milioni e 300 mila dipendenti. Gli esperti T o quelli che lavorano nel sistema informativo di amministrazione sono 30 mila, quindi ne rimangono 2 milioni 200 mila che sono cosiddetti amministrativi o simili. Ecco, la vera svolta sul digitale non è se gli esperti di sistema informativi sono bravi, che chi se ne frega, spero che siano bravi, non è quello, è se siamo bravi noi, cioè se possiamo usare perfettamente gli strumenti che ci vengono mettere in posizione dai nostri datori di lavoro e che sono anche, tra l'altro, indicati in alcune norme. Quindi non soltanto ci viene chiesto il nostro datore di lavoro, ma ce lo chiede il pubblico all'esterno. Faccio alcuni esempi sempre stupidi o banali, ma però mi capirete. Il fatto che sia ormai abbastanza diffuso, perché sono anni che lo stiamo facendo, l'uso della posta elettronica certificata fa sì che molti dei nostri utenti, se non tutti, la preferiscono rispetto ad altri strumenti, anche laddove è usata a sproposito. La PEC è esattamente l'equivalente di una raccomandata con il risultato di ritorno e non sempre occorre parlare con gli altri sbattendoci in faccia le raccomandate, però viene utilizzata. Ora, sarebbe assolutamente opportuno, forse già così, ma lo scopriremo quando il sistema sarà funzionante, cioè tra pochi mesi, che ogni indipendente pubblico, indipendentemente se lavora nel reparto dove le PEC vengono ricevute o meno, abbia la perfetta conoscenza del fatto che quando riceve una PEC, A deve rispondere, B gli è stata notificata come se fosse una raccomandata allo stesso valore legale. Molti diranno, ma questa non è una competenza informatica, infatti non penso sia una competenza informatica, ma fa parte delle competenze normali di un indipendente pubblico. Quando voi entrate nella vostra stanza in ufficio e se c'è buio accendete la luce, non lavorate mica per la CEA o l'ENEM, però sapete che prendete un interruttore e si accende la luce, perfetto. Un indipendente pubblico normale deve essere perfettamente a conoscenza del fatto che se riceve un documento allegato a una post, a una mail e il documento è digitalmente firmato, anche se lui nella sua vita non firmerà mai digitalmente nulla, deve perfettamente sapere se quel documento ha una valore legale o che valore legale ha, perché in quel momento lui non è lui come persona fisica, lo è a casa, lui è l'amministrazione che sta ricevendo su un dispositivo messo a disposizione dell'amministrazione, cioè su un personal computer, una mail il cui allegato è digitalmente firmato. Quel documento è valido per legge e le cose che vi sto dicendo sono alcune delle, per farvi capire, il livello su cui vogliamo tendere, quindi avere un set condiviso di conoscenze indipendentemente da dove lavoriamo e dal nostro ruolo. Come abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto, sarà poi la dottoressa Albano che ha seguito più in dettaglio questa attività, a spiegare esattamente i contenuti e il nostro scopo. Io volevo soltanto darvi qualche overview, un volo radente sull'attività complessiva. Il primo è classificare quelle che sono le competenze che secondo noi devono avere qualunque dipendente pubblico. Le abbiamo classificate per tre diversi livelli, come capita per la lingua inglese, quindi c'è un livello base, uno medio e uno avanzato e rileveremo queste competenze attraverso un banale test di autoapprendimento con domande a risposta chiusa. Esattamente come chi di voi ha fatto o si è iscritto a una scuola di inglese sa che la prima cosa che gli è stata richiesta è di verificare il suo livello di conoscenze in modo da iscriverlo nella classe opportuna. Noi facciamo la stessa cosa, quindi terminata la consultazione sul syllabus che come sapete terminerà pochi giorni prima di Natale, ci prendiamo a gennaio per accogliere o verificare come modificare il syllabus sulla base delle richieste di modifiche che verranno da chiunque le forrà e quindi nel mese di febbraio il syllabus sarà definito. A quel momento sugli ambiti che saranno meglio specificati con la versione nuova creeremo un certo numero di domande che metteremo su una piattaforma. La piattaforma sarà niente di diverso appunto di una piattaforma di quelle con cui si fanno test di autoapprendimento con domanda risposta chiusa. Ciascun dipendente potrà accedervi liberamente, io questa cosa la dico tranquillamente, probabilmente dovrò litigare con qualche vostro capo del personale, ci litigo dopo, ora non ci voglio pensare. Non voglio pensare al fatto che ci sia qualcuno che possa dire che i miei dipendenti non accedono o accedono. Dal mio punto di vista è esattamente come se avete un pc e avete un browser, quando lo avrete, entrate tranquillamente in questa piattaforma. Stiamo facendo un accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze, quindi per quei dipendenti che hanno il cedolino su noi PA, per intenderci chi lo ha, di chi sto parlando, cercheremo di evitarvi qualunque rogna di, ma per accedervi ad avere le credenziali o spido che non devi avere nulla, se hai il cedolino su noi PA, su noi PA troverai direttamente il link per accedere alla piattaforma. Per tutti gli altri che non ce l'hanno, cercheremo una soluzione al massimo grado semplice, ma niente più di utente e password perché non dobbiamo fare nulla di strano rispondere a un questionario. Il questionario ovviamente alla fine del questionario ciascuno di voi riceverà dal sistema in automatico una scheda che dice guarda su questi cinque ambiti sei così classificato, sull'ambito uno hai una conoscenza media, su due alta, su tre basse e così via. Alla fine di questa diciamo della risposta, questo non mi interessa, no mi interessa, è il terzo punto ecco, alla fine della fiera, per quelli che su alcuni ambiti non fossero a livello più avanzato, io mi auguro che la maggior parte di voi e io il primo, che sarà uno dei primi a fare il testo ovviamente, sia bravo in tutto e qui ti abbiamo chiuso qui, ove qualcuno avesse qualche buco di competenza e volesse colmarlo, non è obbligatorio che lo faccia, ma volesse colmarlo e creeremo sempre sulla stessa piattaforma, sarà disponibile una serie di moduli, io le chiamo pillole perché saranno molto brevi, di pochi minuti, in modalità e-learning e video, quindi come si fa con i tutorial che sono su YouTube, quando non so se a voi capita, io sono un maschietto, mi capita quando avendo perso il manuale della mia lavastoviglie e devo mettere un programma che non so come si fa, che cosa faccio? Vado su Google, scrivo il nome della lavastoviglie, programmi e mi compare subito o il manuale o un tutorial, un video di qualcuno che mi spiega, guarda per lavare a 50 gradi premi P3 e ora l'ho capito, fine. Ecco, ora l'ho fatto un po' troppo banale, ma quello che noi immaginiamo è che a fronte di piccole carenze in piccoli ambiti, corrispondono piccoli moduli formativi, anche questi, mi auguro che le vostre amministrazioni siano d'accordo, liberamente fruibili, quando? Quando vi pare, da casa o dall'ufficio, quando non c'è nessun vincolo, la piattaforma sarà su internet, quindi è usabile da dovunque, dall'ufficio per chi lo vuole ed è tranquillo, o da casa per chi vuole parlo da casa. E non troppo importante questo. La piattaforma, qua è un disegno troppo tecnico, quindi non voglio che vi soffermiate troppo, ma soltanto per intenderci, abbiamo fatto in modo che sia multisillabus, cosa vuol dire? Oggi, non so chi di voi è giocatore di PlayStation o Xbox o di queste cosucce, ma molti di voi immagino che sì, perfetto, voi avete una console e poi vi infilate, non so se un disco o una schedina, e a ogni cd o scheda corrisponde un nuovo gioco, ma la console non cambia. Ecco, la piattaforma nostra è come la console. Ora infiliamo la scheda o il cd delle competenze digitali e quindi si trasforma in una console che vi fa un quiz e dei test sulle competenze e poi vi fa accedere a moduli formativi sulle competenze digitali. Ma laddove fosse inserita la scheda sulle competenze rispetto al codice degli appalti, a come si tratta il pubblico, a come si fa un intervento a cuore aperto, sto dicendo delle idiozie ma mi stare capendo, è assolutamente disponibile a chiunque. Quindi voi, o meglio le vostre amministrazioni, o volessero o immaginassero che c'è un contenuto formativo che può essere utile ai propri dipendenti, ma anche perché trasversare a tutti gli altri, alcuni di quelli che ci sono per tutti, la può liberamente utilizzare, non metteremo in questione sulla cartaforma le specifiche per poterla utilizzare a fronte di esigenze condivise, in modo che una platea più ampia dei 100-200 dipendenti del comune Alfa possa utilizzarla e quindi in che modo? Prima si crea il sillabus, dal sillabus le domande, dopo le domande i moduli formativi per completare e colmare gli eventuali gap di formazione. Io non direi altro, anche perché sono quasi arrivato alla fine, alla fine dei pochi secondi che ho ancora avrete la disposizione del tempo per farmi delle domande, ma anche alla fine del webinar ci sono, quindi ce n'è già una, ma se fossero altre le vedremo. Mi tolgo gli occhiali. Sì, brava, Maria Elena, assolutamente sì. Allora, sì, ecco, infatti le stavo per porre la domanda di Maria Elena, quindi confermiamo che appunto questo progetto poi di formazione è rivolto a tutti i dipendenti pubblici. Assolutamente sì, è volutamente non mirato, perché noi immaginiamo, non solo la nostra collega Maria Elena Cavaliere che ha posto la domanda dove lavori, non me lo deve dire, indipendente dove lavora, però vi sono alcune sedi competenze di base che sono indipendenti dove si lavora. Perché? Perché le norme che regolano alcuni comportamenti elementari, comportamenti organizzativi e amministrativi intendo dire, non individuali, sono normati a livello nazionale. Quindi faccio alcuni esempi per intenderci. Il codice degli appalti vale da Bolzano a Capopassero, quindi in Sicilia e in Trentino lo applicano allo stesso modo. Il codice della missione digitale è identico, le norme anticorruzione sono identiche, quindi gran parte delle attività tra virgolette di supporto o di servizio sono identiche. Poi se uno lavora all'Istituto Nazionale di Prevenzione Sociale farà dei servizi particolari, però pur facendo servizi di servizi particolari nei confronti della propria utenza dovrà comunque, se riceve un allegato di email con una firma digitale, saper capire se la firma digitale è valida o no. Se scrive qualcosa su un sito, deve sapere che averlo scritto su un sito, perché lo dice una norma, è equivalente ad aver utilizzato una bacheca che ha valore legale, come quando sull'albo operatorio del comune sono scritte le notizie, sono valide e vere. Quindi se sto pubblicando su un sito un modulo per iscrivere a scuola, la popolazione può utilizzarlo e se la scuola dice no guarda quello del sito è arretrato, sapete che vince quello del sito e non quello che vi danno sportello. Sono alcune cosucce di cui verificheremo le vostre competenze con il syllabus, ma che vorrei che voi conosceste, perché soltanto conoscendo perfettamente tutto il set normale di competenze di un pubblico dipendente rispetto al digitale, che in questo momento è quello che vi fa fare quasi tutto, che probabilmente riscuoteremo un piccolo incremento della competenza minima necessaria per stare al passo coi tempi. Chiudo prima di rispondere a Valentina Raso della scheda. Quale scheda Valentina? Non capisco, dov'è scheda? Ho detto scheda? Va bene, magari chiediamo di porre meglio la domanda, io direi intanto la ringrazio moltissimo per il suo intervento e direi a questo punto di passare la parola a Valentina che ci presenterà il syllabus. Valentina Albano, lavora al Dipartimento della Funzione Pubblica. Benissimo, adesso abbiamo cambiato l'etichetta. Bene, allora a lei la parola, adesso condividiamo le slide. Benissimo, grazie. Grazie, in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione proverò a darvi qualche indicazione di dettaglio in più in merito al syllabus e soprattutto in merito alle scelte che abbiamo adottato per la sua realizzazione. Ora, partirei proprio da approfondire alcuni elementi definitori. Innanzitutto, perché syllabus? Ora, il syllabus di fatto è un termine che viene utilizzato in ambito accademico per definire un programma e quindi gli obiettivi formativi di un corso di studi sostanzialmente. Tra l'altro, syllabus è anche un termine molto noto in ambito di competenze digitali perché è utilizzato ad esempio in progetti molto rilevanti che presumo conoscono tutti come le SIDL e le vedeva anche citato in diverse domande, così come l'EUCIP. Quindi, così come per questi due programmi, syllabus nel nostro caso è un documento che descrive le competenze di base appunto che riconosciamo come potrebbero essere fondamentali per tutti i dipendenti pubblici, competenze che nel nostro caso specifico decliniamo come insieme di conoscenze e di abilità oppure skill all'inglese. Quindi, questo documento di fatto rappresenta il punto di riferimento per l'elaborazione di corsi formativi di cui appunto parlava il dottor Bullo e così come per i questionari di autoverifica. Quindi, descrive i contenuti che saranno poi articolati nelle domande di autoverifica e poi ovviamente nel modulo di formazione. Di conseguenza ha tre destinatari principali, i dipendenti che ovviamente sono resi adotti di quelle che sono le competenze che vengono ritenute chiave nell'ambito digitale, le amministrazioni che possono mettere in campo delle iniziative di formazione su questo tema e ovviamente i formatori che ovviamente hanno una guida di riferimento proprio per la costruzione dei programmi formativi. Riguardo invece all'impianto che abbiamo definito, appunto come è stato costruito il syllabus, ora sicuramente il nostro punto di partenza, di riferimento è Digicomp, il famosissimo ormai ben noto programma europeo, framework europeo sulle competenze digitali per la cittadinanza digitale. Infatti l'impianto è molto simile seppur con alcune differenze dettate essenzialmente dalla necessità di semplificarlo, anche perché le finalità tra il nostro syllabus e Digicomp sono abbastanza diverse. Ora, alla stregua di Digicomp il syllabus è organizzato in aree di competenze, quindi in aree che definiscono gli ambiti chiave di competenze individuati, per ciascuna area sono articolate delle competenze ovviamente descritte, ogni competenza ha un diverso livello di padronanza e il diverso livello di padronanza è definito con una serie di conoscenze qualificanti. Il Digicomp, a differenza del syllabus, ha un livello di dettaglio in più dato dagli esempi di utilizzo, ma è nei livelli di padronanza che la differenza è più significativa. Infatti nel nostro caso, quindi nel syllabus competenze digitali per l'APA, abbiamo tre livelli di padronanza, base e intermedio avanzato, mentre nel caso di Digicomp si arriva ad otto e le dimensioni con cui sono definite queste classi di padronanza sono diverse, quindi entrambe condividono il concetto di dominio cognitivo, per cui si parla di ricordo, quindi comprensione piuttosto che applicazione, piuttosto che valutazione e nel caso del syllabus l'altra dimensione considerata è la complessità tematica, perché si riconosce che ci sono dei concetti che anche la mera conoscenza di alcuni concetti implica un livello di padronanza un pochino più avanzato. Pensa ad esempio alla metadatazione dei documenti digitali o anche il sistema di fascicolazione, comunque richiede anche la mera conoscenza, una competenza più elevata rispetto alla conoscenza delle caratteristiche distintive di un documento informatico. Nel caso del Digicomp vengono aggiunte altre due dimensioni caratterizzanti le classi di padronanza, vale a dire la complessità del compito, quindi i compiti più o meno complessi e il grado di autonomia dello svolgimento del compito. Ora perché abbiamo scelto di adottare una linea più orientata alla semplificazione? Questo è dato dal fatto che il syllabus nasce con una finalità ben precisa, vale a dire quella di promuovere la conoscenza di base utilizzando degli strumenti che possono essere facilmente accessibili a tutti i dipendenti pubblici, quindi un sistema di facile fruizione per le attività di autovalutazione da un lato e dall'altro anche moduli informativi erogati in e-learning. Ovviamente in questo caso temi quale l'osservazione e l'analisi dei comportamenti che ad esempio è richiesta nel momento in cui io voglio rilevare complessità del compito e il grado di autonomia non può essere facilmente applicata attraverso un sistema a risposte multiple web-based, per cui proprio per favorire la facilità di utilizzo abbiamo preferito ridurre la complessità concettuale della struttura del syllabus. Ma la differenza principale diciamo tra i due framework è che è data dal target, quindi Digicomp indirizza la cittadinanza digitale, il nostro syllabus invece indirizza i dipendenti pubblici. Ora effettivamente già su Digicomp sono state fatte molte altre specificazioni rispetto ad ambiti a target ben definiti, penso al Digicomp for consumer, cioè destinato ai consumatori online, anche in quel caso sulla base dell'impianto del Digicomp sono state definite aree di competenze specifiche che definiscono le fasi chiave di un processo di acquisto di un cittadino in ambito online, quindi sul web. Nel nostro caso abbiamo provveduto a una declinazione delle aree di competenze andando ad indirizzare le specificità dei dipendenti pubblici. E appunto come ricordava, come evidenziava il dottor Bullo prima, si tratta della prima esempio al momento in Europa, ci sono sicuramente molte applicazioni di Digicomp nel caso del settore pubblico, però nessuno fino adesso si è spinto a fare un ragionamento molto puntuale diciamo su quelle che sono le competenze richieste ai dipendenti pubblici, probabilmente anche perché diciamo l'Italia ha una caratterizzazione forte visto l'elevata contributo normativo diciamo sull'amministrazione digitale, quindi introduce molte specificità. Ma entriamo un pochino più nel dettaglio sul target indirizzato. Ora, questo slide un po' definisce quello che non è il dipendente pubblico, nel senso che di fatto il dibattito attuale sulle competenze digitali, si è al momento fortemente concentrato su tre figure, quella del cittadino appunto, quella degli leader e delle specialisti esiti. Ricordo che proprio poco tempo fa sono state pubblicate le linee guida sia legate alle professioni esiti che anche alle competenze degli leader. Ora, quello che noi volevamo valorizzare è appunto un dipendente pubblico con una serie di competenze specifiche che si aggiungono a quelle di cittadinanza digitale, perché il dipendente pubblico utilizza degli strumenti specifici, si parlava della PEC ma possiamo anche parlare di software applicativi specifici di settori, pensiamo alle anagrafi piuttosto che all'agenzia delle entrate, piuttosto che altri appunto settori con funzionalità molto ben definite. Opera sulla base di leggi, di norme molto puntuali, pensiamo a tutta la gestione documentale come altamente regolata da norme e anche nell'utilizzo di applicazioni o di strumenti che sono di uso quotidiano, in realtà molte volte il dipendente pubblico deve ricordare che riveste un ruolo diverso, quindi pensiamo all'identità digitale che ovviamente è diversa l'identità digitale della persona come cittadino piuttosto che di persona come rappresentante di un'istituzione pubblica, quindi questo può comportare rischi e opportunità che devono essere opportunamente prese in considerazione. Si differenzia dagli leader, perché di fatto l'e-leader è una figura professionale che guida il cambiamento, noi con il nostro syllabus abbiamo invece cercato di indirizzare i cosiddetti follower, cioè le persone che di fatto devono seguire eventualmente un leader nell'adozione di un cambiamento, quindi non è una figura che promuove il cambiamento ma che la concretizza, che la mette in atto. Ovviamente anche con l'idea che soltanto nel momento in cui si crea un ambiente culturale favorevole al cambiamento, questo può essere una condizione abilitante per la creazione degli leader. È necessario che ci sia un linguaggio comune per fare in modo che le idee creative di qualcuno, che sia un dirigente ma anche un funzionario che ha delle idee creative, possano essere effettivamente proposte e abbiano un contesto positivo per il loro sviluppo. E ovviamente si differenzia dello specialist etico. Come appunto evidenziava il dottor Bullo, non è detto che per utilizzare uno smartphone bisogna essere un ingegnere informatico e quindi ci sono tanti strumenti e applicazioni che devono essere utilizzati, diciamo, senza necessità di avere delle competenze molto specifiche. Allora, a questo punto, visto che abbiamo definito che cosa non abbiamo indirizzato, proviamo a qualificare un pochino meglio quali sono le competenze su cui ci siamo concentrati nella definizione del syllabus. Ora, in linea generale l'idea di fondo è quello di avere dei dipendenti pubblici che sanno muoversi agevolmente in un'amministrazione sempre più digitale, il che vuol dire saper utilizzare tutto il ventaglio di strumenti che sono messi a disposizione, specifici o comunque declinati in maniera specifica nel contesto pubblico, saper tutelare i diritti di cittadinanza digitale, per cui mi attendo che, diciamo, ad esempio tutti i dipendenti pubblici conoscano quali sono le modalità di trasmissione di un'istanza, per cui se un cittadino trasmette un'istanza che è una scansione, diciamo, di un documento firmato con allegato la carta d'identità, non viene anche richiesto di trasmettere l'originale, come purtroppo accade in moltissime situazioni. Di comprendere rischi e vantaggi di tutti gli aspetti legati alla gestione digitale di dati e informazioni, ma anche alla comunicazione, alla collaborazione. Adesso poi si parla anche di un uso sempre più pervasivo dei social media che entrano, diciamo, in maniera diretta o indiretta nella pratica lavorativa di diversi dipendenti pubblici. E anche avere un minimo di sguardo su quelle che sono le tecnologie emergenti, quindi sapere e quindi in qualche modo prepararsi ai cambiamenti che potrebbero avvenire di qua a poco tempo. In linea generale per poter svolgere un ruolo proattivo e assertivo nel processo di trasformazione digitale della piano. Andando finalmente, diciamo, dopo questo tentativo di inquadramento della logica che abbiamo adottato per lo sviluppo del syllabus, andiamo un attimo più in profondità su quelli che sono i contenuti del syllabus. Il syllabus si articola in cinque aree di competenze, ciascuna appunto articolate in competenze e distribuite per i tre livelli di padronanza. Le aree di competenza sono tutto ciò che attiene a dati, informazioni e documenti informatici, per cui ci si attende che un dipendente pubblico sia in grado di conoscere il valore di dati, di saperli gestire, di saper ricercare informazioni, magari anche utilizzando degli strumenti che sono specifici o comunque mirati a quelle che sono gli aspetti o le problematiche dei dipendenti pubblici, quindi penso anche a banche dati che sono destinate ai dipendenti pubblici. Poi il dipendente deve conoscere le regole legate alla produzione, alla gestione dei documenti informatici, nonché alla loro conservazione, ma anche deve essere in grado di valutare la bontà di un documento informatico, così come deve avere cognizione del concetto di open data e di open data by default. Passando invece alla comunicazione e condivisione, abbiamo un po' individuato due ambiti. Da un lato ci sono una serie di competenze che attengono alla comunicazione e condivisione intraorganizzativa, quindi all'interno della propria istituzione, quindi alla base di quello che è il lavoro collaborativo che viene svolto negli uffici. Accanto a questo c'è tutto il mondo della comunicazione con i principali stakeholder dei dipendenti pubblici, vale a dire in primis i cittadini e le imprese, ma anche le altre amministrazioni. Quindi ci si attende una cognizione del concetto di domicilio digitale, di utilizzo appropriato della PEC, come si diceva anche prima. Un tema molto sentito e che giustifica anche l'attenzione che abbiamo dedicato al syllabus è quello della sicurezza. Infatti molte indagini rilevano come sia un tema su cui la sensibilità delle pubbliche amministrazioni è molto spiccata. In particolare abbiamo individuato due ambiti di competenze, cioè la protezione dei dispositivi e la protezione dei dati personali e la privacy che ovviamente di recente con il famoso GDPR ha ottenuto anche, ci sono stati degli interventi innovativi particolarmente rilevanti. La quarta area è quella relativa al servizio online e quindi relativa alla necessità dell'amministrazione di assicurare l'accesso al servizio online da parte di tutti i cittadini e questo vuol dire appunto, oltre a avere condizioni di servizio online, conoscere anche quelle che sono le principali piattaforme abilitanti che supportano l'erogazione in maniera diciamo omogenea di questi servizi. Quindi penso all'identità digitale e quindi al sistema speed, penso al sistema pago PA oppure alla fatturazione elettronica. Ma anche la necessità di riconoscere i principi come lo one solid, cioè quindi i documenti vengono acquisiti, devono essere acquisiti dall'amministrazione soltanto una volta, oppure il digital space or mobile first. L'ultima area è quella invece della trasformazione digitale. quindi non soltanto un dipendente pubblico deve conoscere e utilizzare in maniera appropriata gli strumenti che ha a disposizione, ma sarebbe opportuno che avesse anche cognizione del perché lo sta facendo e quindi di qual è l'intervento più a livello macro nel quale la situazione si sta interendo. Quindi sarebbe opportuno che avesse delle conoscenze in merito non solo agli aspetti di governance del digitale in Italia, ma anche a quelle che sono le principali policy, principali orientamenti appunto sul tema dell'amministrazione digitale, oltre alla conoscenza appunto di quelle che sono le tecnologie emergenti, pensiamo agli OT, pensiamo all'intelligenza artificiale, di cui al momento ancora si parla, diciamo, le applicazioni nell'ambito pubblico non sono molte, però, diciamo, non dovremo sicuramente attendere tanto, diciamo, per avere questo tipo di innovazione e quindi che impatteranno sull'operatività di molti antidipendenti pubblici. In linea generale, volevo aggiungere un aspetto, lo sforzo che abbiamo provato a fare era quello di rimanere piuttosto neutri dal punto di vista tecnologico, nel senso che non si fa riferimento a tecnologie specifiche, ma appunto al concetto che c'è dietro, quindi penso ad esempio agli aspetti di comunicazione e condivisione, non ci siamo focalizzati su alcuni strumenti, proprio per cercare di assicurare una maggiore vita, longevità, diciamo, al sillabo, in modo tale da potersi facilmente adattare alle eventuali evoluzioni tecnologiche che sicuramente si verificheranno nei prossimi tempi. E anche, diciamo, proprio nella consapevolezza che potrebbero esserci, sicuramente ci saranno delle variazioni, visto che parliamo di digitale, il sillabus nasce per essere dinamico. Ora, sicuramente in questa prima fase sono definite tre steppe importanti, quindi è stato rilasciato il primo draft, appunto, ad ottobre, che adesso è in consultazione, vi ricordo, fino al 21 dicembre e, diciamo, nel mese di febbraio pubblicheremo la prima versione di questo sillabus. Ma il sillabus, appunto, non verrà poi, una volta pubblicato, non rimarrà statico, ma sarà soggetto ad una forma di manutenzione continua, proprio per assicurare, da un lato, la capacità di rispondere sempre di più, diciamo, alle esigenze, e quindi di allinearsi alle competenze richieste ai dipendenti pubblici, al contempo per adattarsi a quelle che sono le evoluzioni tecnologiche. Io vi ringrazio, vedo una serie di domande. Allora, rispondo subito, perché la prima che vedo è a Patrizia. Quindi, il sillabus si pone un gradino sopra le aree di competenza di DigiComp 2.1. Tendenzialmente sì, ora, di sopra al lato, diciamo, è un po' difficile definirlo, però sicuramente l'idea è che, diciamo, il dipendente pubblico è in primis un cittadino e quindi a lui sono richieste delle competenze da cittadino digitale, ma che può sviluppare in qualunque tipo di contesto. Penso, ad esempio, a tutto il lavoro che è stato fatto sulle CDL, anche a livello scolastico. E le competenze, diciamo, definite dal sillabus sono invece una declinazione specifica a quella di più che viene richiesto al cittadino nel momento in cui assume anche il ruolo di dipendente pubblico. Ok, grazie. Ti riassumo la domanda di Claudia Onnis. Chiede se ci sono poi anche affondi specifici, formativi su persone, dipendenti pubblici, ad esempio, che si occupano di comunicazione digitale? Allora, al momento no, cioè, diciamo, l'idea era un po' anche quella di fare un ragionamento modulare, nel senso, no? Al momento ci siamo concentrati su quelle che sono le competenze di base. È una base, appunto, di riferimento che poi può essere tranquillamente sviluppata, diciamo, su settori specifici oppure su aspetti di tipo specifico. Il nostro sport è stato proprio quello di definire un confine sufficientemente stretto in modo tale da proporre, diciamo, un impianto e creare, diciamo, i presupposti per costruire, diciamo, tutte quelle che sono le specificità che condividono questa base, ma che poi hanno delle loro caratterizzazioni. Anche un po' quello che dicevo all'inizio, il syllabus è molto semplice, ma questo non vuol dire che può essere complicato, diciamo, a piacere, nel senso che possono esserci aggiunti, diciamo, dei moduli, dei componenti che lo rendono, appunto, sia più utilizzabile magari per forme di assessment più complesse, oppure per forme di formazione più complesse, o anche per, diciamo, le specificazioni settoriali. Ok, poi c'era una domanda che era riferita all'intervento del dottor Gullo, che chiedeva di specificare meglio il meccanismo di uso del test di autoverifica che era stato brevemente illustrato. ecco, ero qua accanto. Allora, abbiamo creato una piattaforma sulla quale saranno disponibili un certo numero di domande, se non ricordo quanti sono le domande per ciascuno, non te lo ricordi? No, è variabile. Vabbè, è variabile. Molto più di 20, molto meno di 100, ovviamente. Quindi un'operazione che ha il giusto livello di serietà, perché fare 20 domande per capire se uno ne capisce di digitale è una presa in giro. Ne volevamo rubarvi troppo tempo. Quindi il sistema si baserà su un certo numero di domande, x domande per ciascun ambito, con diversi livelli di difficoltà, da quelle base a quelle intermedie a quelle avanzate, perché appunto deve cercare di capire, come fa un qualunque test a risposta multipla per la lingua inglese o altre cose che trovate su internet in maniera gratuita, l'obiettivo è quello di capire qual è il livello di incompetenza raggiunto. Da quel momento in poi su quella materia si reputa non competente, quindi serve per capire qual è il gap da colmare. Sarà utilizzabile da un sito internet, ora il sito sarà raggiungibile in due modi ovviamente, è su internet, quindi sarà www.immaginocompetenzedigitali.gov.it, in questo momento non è attivo, ma insomma lo pubblicizzeremo tranquillamente prima settimana del prossimo anno, quando sarà disponibile, e la prima cosa che ospiterà il sito è proprio il syllabus, quello definitivo. Per poter fare il test occorre ovviamente accedere con delle credenziali, perché naturalmente se si collega Eleogullo deve essere sicuro che lui si collega con le sue credenziali e non qualcun altro al suo posto. Per poter distribuire al meglio le credenziali abbiamo proviso due meccanismi, uno molto simile a quello che si usa nei normali sistemi di social network o altrove, quindi una modalità di autenticazione abbastanza soft, viceversa per tutti i dipendenti che già oggi, mi riferisco sicuramente ai ministeriali, ma ce ne sono molti altri, che in questo momento possono consultare il loro cedolino sulla piattaforma Noi.pa del Ministero di Economia e Finanze e che quindi hanno già la password per accedere ai guardati cedolino, stiamo facendo un accordo che speriamo di concludere in tempo, in modo tale che per costoro la password che usano su Noi.pa è la stessa che useranno sulla nostra piattaforma, cioè è un modo per facilitare l'accesso, ma in ogni caso, diciamo, non sarà più complicato di avere l'utente password. Alla fine del vostro test, il sistema vi farà arrivare, ho finito, vi farà arrivare sulla vostra posta elettronica con cui siete logati l'esito, non è una pagella, ma vi dice che il livello di competenza è complessivamente questo e su ogni ambito è quest'altro, vi può servire per qualunque fine, se intendete colmare alcune competenze su cui vi sentite meno forti e meno preparati, la piattaforma vi offrirà in maniera gratuita corsi di formazione in e-learning sulle aree sulle quali siete meno competenti. Penso che possa abbastare. No, grazie. Nel frattempo sono arrivate due domande, cerchiamo di rispondere velocemente per cercare di stare nei tempi. Quale campagna di divulgazione affianca il syllabus e se gli uffici di formazione degli enti potranno verificare quanto fatto dal proprio personale? Allora, rispondo subito alla seconda. Ovviamente io ancora non ho fatto nessun incontro corrispondibile della formazione di nessun ente, ma è cosa che avremmo fatto a valle del syllabus. La piattaforma che abbiamo realizzato già prevede, ovviamente, che sia restituita all'amministrazione, mentre è ovvio che restituirà ogni singolo dipendente che ha finito le domande e il test di autovalutazione, è anche previsto che lo stesso livello venga restituito all'amministrazione. Perché dico questo? Perché qualche amministrazione, e molti di quelli che sono dall'altra parte dello schermo sanno delle più avanzate, possono utilizzare la piattaforma soltanto per capire, vediamo i miei dipendenti a che livello sono, poi la formazione per colmare le competenze la farò in modalità tradizionale o con i miei normali sistemi. Assolutamente legittimo e una buonissima cosa, perché qualunque sistema di formazione normale, prima deve partire dall'autovalutazione delle competenze previste e poi al colmare quelle mancanti. È inutile partecipare a un corso di formazione sulla codice degli appalti, uno che è un mosso di codice degli appalti, si annoierebbe da morire. E quindi i responsabili del personale o della formazione, che poi individueremo amministrazione per amministrazione, potranno avere a disposizione l'esito complessivo. Aggiungo e finisco, perché questa cosa forse non l'ho detta, quindi mi scuso, la piattaforma è disponibile ovviamente anche per verificare l'apprendimento fatto. Se dopo il test iniziale, su un paio di aree qualcuno di voi risulta con competenza media, poi fa dei corsi di formazione tra quelli che noi proponiamo, ovviamente lui deve, secondo me è sensato, che ritorni sulla carta forna per verificare se sugli ambiti su cui era meno preparato ma ha fatto il posto di formazione ha colmato la competenza. In modo da avere in mano, non è una certificazione, però avere in mano qualcosa dice, ok, sulle due competenze in cui eri medio, ora sei a livello altro. Va bene, allora io direi di passare la parola a questo punto a Gianfranco Andriola per non andare troppo in là con i tempi, quindi chiedo a Gianfranco di attivare la sua web e il suo microfono. Eccomi Michi, mi vedete dove è sempre, grazie a te, io ho un intervento molto breve, 10 minuti e un quarto d'ora e a valle di quello che già vi hanno raccontato Elio prima e Valentina dopo. Abbiamo pensato che questo webinar potesse essere l'occasione utile per raccontarvi come funziona la consultazione, cioè il documento del Syllabus in questo momento è esposto a consultazione pubblica, secondo i principi del governo aperto, secondo i principi della collaborazione, lo stesso Elio ha iniziato questo webinar rivolgendosi a voi, dicendo cari colleghi, un po' come rimarcare il fatto che in qualche modo siamo tutti coinvolti rispetto a un'iniziativa di questo tipo, quindi ci sembrava la soluzione migliore quella di provare a chiedere a chi dovrà avere a che fare con i contenuti del Syllabus, con le competenze, un po' le domande che venivano poste ad Elio e Valentina in chat nell'ultima mezz'oretta, di esprimere la propria visione sul testo e quindi abbiamo pensato potesse essere utile montare una cosiddetta consultazione pubblica su uno strumento che il Formats mette a disposizione da un po' di tempo per le pubbliche amministrazioni che si chiama commentario che trovate al link in basso in questo slide che credo sia attivo, quindi cliccandoci dovreste arrivare. Sostanzialmente è una piattaforma che permette di esporre dei test in consultazione e quindi permettendo agli utenti di commentare i singoli capoversi di quel testo, adesso ve la racconto un po' meglio. Parto dalla home page che sostanzialmente è realizzato in questo modo, avete una prima parte più alta in cui c'è una sorta di descrizione di che cos'è questa consultazione, in questo caso che cos'è il Syllabus, sostanzialmente quello che finora vi hanno raccontato Elio e Valentina. Nella parte più bassa invece trovate i testi del documento Syllabus che vengono esposti in consultazione. Tra le informazioni utili per chi volesse partecipare alla consultazione sul Syllabus ce ne sono alcune che diventano un po' indispensabili per capire se voglio partecipare, mi sento coinvolto, penso di poter dare un contributo rispetto alle tematiche di cui si tratta, quindi sostanzialmente nell'home page, nella prima parte trovate che cos'è la consultazione, come funziona, a chi si rivolge, quali sono i tempi previsti, in questo caso dura un paio di mesi, si è aperto due settimane fa, si conclude sotto Natale il 21 di dicembre e infine gli esiti della consultazione, questa parte è particolarmente importante, nel senso che nel momento in cui si chiede attraverso il commentario o a qualcuno di commentare, cioè di dare un proprio contributo e di investire le proprie energie, le proprie risorse, le proprie competenze su un lavoro collaborativo, è importante da parte nostra rimarcare quello che sarà la conclusione, cioè cosa si arriverà, quali sarà l'esito finale della consultazione. In questo caso fra l'altro ci trovate anche il nome, la mail a cui fare il riferimento e il nome di Elio Gullo, proprio come responsabile, cioè una persona che, come diceva, in questa cosa ci ha messo anche il volto, oltre il nome, che si prende in carico la responsabilità di questa cosa ed è un riferimento per tutte le persone che collaborano a questo testo. A questo punto chiunque si imbatte in questo sito dovrebbe più o meno aver capito se può essere interessato a partecipare attivamente alla scrittura del syllabus e quindi nella seconda parte del home page avete una serie di riferimenti, i testi veri e propri del documento. In questo caso potete scaricarlo in formato pdf da un link che c'è nella parte del home page che magari è più comodo da stampare o da scaricare o da caricare su un ebook reader, insomma da leggere in giro, oppure potete cliccare sui singoli testi, sulle singole aree del syllabus e quindi andarle a leggere direttamente online. La pagina che vi si apre è quella che vedete mostrato in questo slide e immagino si noti subito che accanto ad ogni capoverso c'è quella specie di piccola iconetta a forma di fumetto, alcune sono grigie, altre sono già illuminate in colore azzurro con un numero che fa un conto, adesso vi racconto meglio di che cosa si tratta. Ad ognuno di quei fumetti illuminati corrisponde un contributo di un utente che si è già espresso, su questa particolare porzione di testa del syllabus, in questo caso nello screenshot che ho fatto ieri vedete che il testo di Marieva Favolino che commenta l'introduzione generale del testo, quindi di fatto chi ancora non si è logato, chi sta guardando i testi, i testi del syllabus sull'applicazione commentario, oltre a poter leggere i testi può anche guardare quelli che sono i commenti che sono già stati inseriti. A questo punto diciamo che chi volesse davvero commentare il testo del syllabus ha più o meno tutti gli elementi per poterlo fare e quindi penso possa essere utile andare a guardare effettivamente quali sono i passaggi da fare. Il primo ovviamente come in qualunque sistema online, come in qualunque di FPout e qui approfitto per fare un breve inciso, di FPout se mi state ascoltando, se state ascoltando questo webinar ce l'avete già tutti, è lo stesso sistema che avete utilizzato per accedere a Eventi PA, quindi per iscrivervi a questo webinar ed in generale il sistema che il format del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche utilizzano per una serie di sistemi online. Per rendere ancora più comodo il login degli utenti che ripeto volessero contribuire con le loro idee alla consultazione sul syllabus, c'è anche la possibilità di loggarsi attraverso Facebook e attraverso Twitter che sono le due piattaforme social più, due tra le più diffuse. Credo che a breve dovrebbe anche arrivare, Salvatore che ascolterete subito dopo di me mi facendo di sì, dovrebbero anche arrivare login con altri sistemi tipo LinkedIn piuttosto che Google Plus o il sistema di Gmail, però di base insomma tutti gli elementi per poter accedere, gli strumenti per poter accedere alla consultazione direi che ci sono già. Una volta che ho fatto login, ritorno sulla home del syllabus e vedete che in questo caso in alto a sinistra, subito dopo la testata, c'è il mio nome e cognome che in qualche maniera è il modo che ha il sistema per dirmi che mi sono loggato, quindi ho fatto accesso e posso direttamente commentare. Il commento avviene come vi accennavo prima sulle singole porzioni di testo, quindi a valle di una lettura generale del documento individuo quelli che sono gli aspetti che possono interessarmi di più o meglio su cui il mio contributo può avere una maggiore valenza, su cui tengo di più a contribuire, su cui ho maggiore esperienza magari maturata durante il mio lavoro, nell'ambito dell'ente in cui lavoro e quindi inserisco un commento. Questi sono i commenti, sono mostrati, questo è il commento inserito da Ciro Spataro più o meno all'inizio della consultazione, Monica chiosava il commento di Ciro, Ciro a sua volta rispondeva al commento di Monica. Quindi ci possono attivare dei piccoli dialoghi, dei piccoli momenti di scambio attraverso i commenti. È importante sottolineare a mio avviso che non si, cioè il commento non è l'unico modo per partecipare alla consultazione, come vedete in alto accanto al singolo nome dei partecipanti, cioè della persona che ha inserito i commenti, ci sono una serie di conette, la prima, una di queste è il cuoricino, il classico like stile Facebook, faccio un esempio, nel momento in cui mi dovessi rendere conto che sulla porzione di testo che volevo commentare c'è un commento di qualcun altro già inserito che più o meno riassume le cose che volevo dire io, più o meno sintetizza quello che ho in testa di scrivere, piuttosto che inserire un ulteriore commento e lasciatemi dire, piuttosto che rendere la consultazione ancora più rumorosa con ulteriori commenti, potrei decidere di votare il suo commento. A quel punto faccio galleggiare più in alto quell'idea, do a chi dovrà sintetizzare a vale della consultazione in un documento di sintesi tutti i contributi arrivati, maggiori elementi per capire che quell'idea effettivamente può essere utile rispetto al mio modo di vedere questa consultazione. Posso linkare questo contributo, posso linkare il contributo che ha inserito qualcun altro, il contributo che ho inserito io per riproporlo da qualche altra parte, anche qui vi faccio un esempio, se ha dei commenti una porzione di testo e poi voglio promuovere il mio commento su Twitter, posso prendere questo link, metterlo su Twitter e condividere con tutti i miei contatti su Twitter o su Facebook, insomma su qualunque piattaforma social, condividere con tutti i miei contatti il mio contributo e magari chiedere a qualcun altro di votarlo, magari chiedere a qualcun altro a sua volta di contribuire, di collaborare sul syllabus rispetto all'idea che ho evidenziato. E infine, altro modo per collaborare, per partecipare, che è una cosa che ci dà una gran mano nel momento in cui dovesse succedere, posso segnalare il commento come inappropriato, in questo caso è un modo collaborativo, lasciatemelo dire, quasi crowdsourcing per gestire al meglio i eventuali commenti inopportuni che possono arrivare sulla consultazione. Il commento è contestuale, questa cosa ci tengo a dirvela sin da subito, nel momento in cui scrivete un commento e schiacciate invio, vi ritrovate il commento direttamente pubblico, il limite di caratteri è 600, quindi un paio di tweet e ci sembrava un numero di caratteri sufficiente per sintetizzare un'idea. Vi racconto anche quello che succede nel back office, nel momento in cui un utente commenta a me, a Valentina che ha parlato prima di me e altri colleghi del form, e ci arriva una notifica in maniera tale che possiamo leggere quello che è stato inserito, sempre come misura di prevenzione di eventuali commenti inopportuni. Su questo ci tengo anche a dirvi che saremo forse la ventesima consultazione fatta sul commentario e a me è successo giusto un paio di volte di bloccare commenti di utenti, quindi è una cosa che normalmente non avviene quasi mai. Questo è quello che avviene, quindi questo è quello che un utente può fare per contribuire direttamente ad alimentare la consultazione sul syllabus, quindi a migliorare di fatto l'attuale testo del syllabus. Una volta che ho spesso i miei commenti, ho spesso a seguire quello che sta succedendo, posso guardare in generale come sta andando la consultazione utilizzando gli strumenti che l'applicazione commentario mette a disposizione di tutti gli utenti. Nella pagina statistica, ci arrivate sempre dalla home, da un tab in home, c'è una sorta di sintesi di quello che sta succedendo, vedete in basso in questa slide, potete vedere quella sorta di timeline dei commenti che vi dà un minimo di temperatura di quello che sta avvenendo, di come sono distribuiti i commenti nel tempo. In alto ci sono dei cruscotti di sintesi, le statistiche generali, le parole più usate nei testi e le parole più utilizzate nei commenti, cioè sono due modi per avere un po' idea di quelli che sono i temi emergenti, che stanno emergendo nella discussione. Queste statistiche sono alimentate in termini di tempo reale, quindi così come arrivano nuovi commenti, questa pagina cambia, si evolve in maniera dinamica. Nella pagina utenti posso avere idea di chi si è connesso, chi ha commentato con quale strumento e quanti commenti ha inserito. Il sistema fa anche una mappa dei commenti, ci dà un minimo di distribuzione, in questo caso ad esempio è una consultazione nazionale, quindi ci dà un minimo di temperatura su quella che è la distribuzione sul territorio delle persone che stanno commentando. Abbiamo avuto altre consultazioni su questo strumento di carattere più regionale, quindi anche lì era particolarmente utile sapere se i commenti stanno arrivando da quella regione piuttosto che da altri territori. Infine, quella che probabilmente è la parte più interessante tra le applicazioni di monitoraggio e di analisi della consultazione che il commentario mette a disposizione, c'è il tab discorso stampabile. Qui sostanzialmente si vede lo stesso testo che è sul syllabus, dove ad ogni porzione di testo, ad ogni capoverso sono associati i singoli commenti fatti dagli utenti. Oltre a poterli vedere con uno schema che credo in giallo si chiama inidificazione, cioè ad ogni singolo commento, un po' come i post di un blog, ad ogni singola porzione di testo corrisponde uno o più commenti, posso anche selezionare, evidenziare in giallo il commento che mi interessa di più, oppure nascondere il commento una volta che tiro giù l'intero testo commentato. È una roba estremamente comoda per chi alla fine dovrà fare la sintesi dei commenti, però è anche particolarmente comoda per chi partecipa alla consultazione e vuole capire quello che sta succedendo, quello che è successo, quello che sta andando. Considerate che il syllabus in questo caso impatta su tutte le pubbliche amministrazioni italiane, quindi chiunque potrebbe avere interesse a capire come stanno evolvendo i discorsi, quali sono i temi emergenti, quali sono i principali commenti che vengono fatti a tutti i singoli passaggi del testo. È importante, vi dicevo, per fare una selezione, una cernita, considerate che ha fatto 100 i commenti che arriveranno su questa consultazione, certamente ce ne sarà qualcuno, più di qualcuno, poco interessanti ai fini della rielaborazione del testo, ce ne saranno altri molto più interessanti, attraverso questo sistema diventa molto facile fare una sintesi, fare una cernita e riuscire a capire quello che sta succedendo. È indispensabile nel momento in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, in questo caso, rimettere a mano a questo testo a valle della consultazione, cioè una volta fatta l'analisi di tutti i commenti e ricostruirà il testo sulla base delle idee che sono arrivate e le idee che sono sviluppate e dei vari discorsi che sono emersi durante questi due mesi di consultazione. Più in generale, però, è la cosa che mi piace rimarcare a due minuti dalla conclusione del mio intervento, è che questo sistema, cioè questa modalità di mettere in consultazione il testo, che è diametralmente opposta alla classica modalità di consultazione che è, spongo il testo sul mio sito web, metto un indirizzo mail e chiedo a chi vuole contribuire di inviare mail su quel testo che non può vedere nessun altro. In questo caso, il commentario è la modalità in cui si sceglie di commentare un testo, di partecipare alla scrittura collaborativa di un testo in generale e in particolare al testo del syllabus, è una cosa che garantisce un'enorme trasparenza dell'intero processo di partecipazione, cioè gli utenti che commentano sulla consultazione possono vedere tutti i commenti degli altri e in più, con gli strumenti che vi ho mostrato nella fase finale, negli ultimi passaggi di questo mio intervento, possono addirittura avere gli stessi strumenti delle persone che poi alla fine andranno a fare sintesi di quei commenti, quindi per noi è particolarmente rilevante sottolineare soprattutto questo passaggio, cioè che non solo il testo del syllabus in questo momento è esposto a consultazione pubblica, ma è anche una modalità di consultazione pubblica estremamente trasparente, molto tarata sulla collaborazione degli utenti che si rifà ai principi del governo aperto e in qualche maniera è quello che a noi piace di più raccontare e che a noi piace di più fare nelle iniziative che portiamo avanti. Detto questo io credo di avervi raccontato più o meno tutto, non mi pare di vedere che domande nel box domande, chiedo a Michi se è il caso per concludere il mio intervento e passi la parola a Salvatore? Sì, possiamo dare direttamente la parola a Salvatore e poi magari alle domande che sono arrivate comunque in chat per Diogul e Valentina potremo farle magari alla fine, così concludiamo tutto il discorso. Quindi Salvatore a te la parola, grazie a tutti, grazie Gianfranco per il tuo intervento e per il tuo chiarimento sul syllabus. Buongiorno a tutti, spero si senta che non ci siano problemi di audio. Io vorrei mettermi nei panni di chi fa il responsabile della formazione, quindi vorrei ragionare come se fossi il responsabile della formazione di un'amministrazione su come usare il syllabus e tutti gli strumenti che sono collegati. Parto da un quadro che è sotto gli occhi di tutti, nel senso che chi vuole occuparsi del sviluppo delle competenze digitali, dei dipendenti, del proprio ente, va a cercare quello che è disponibile e trova diversi documenti, soprattutto messi a disposizione da Agi nel tempo, ma anche il citato documento dell'Unione Europea che è il quadro delle competenze per i cittadini di Digicomp. Apparentemente questa cosa potrebbe far pensare, c'è anche il syllabus, è una cosa in più, come lo inquadro nell'insieme Digicomp e leadership, poi ci sono anche le competenze specialistiche. Ho fatto un primo tentativo di collocare il syllabus in questo quadro, nel senso che partendo proprio da quello che già nel 2014 era inserito nelle linee guida sullo sviluppo delle competenze digitali, c'è un tema più ampio che quello degli leadership. L'e-leadership è un po' l'idea dello sviluppo delle competenze di chi dovrebbe cambiare e innovare la pubblica amministrazione, non solo i dirigenti, non solo i manager pubblici, ma anche le persone che in qualche modo dentro le amministrazioni sono portatrici di cambiamenti e di innovazioni. Nel cuore questa specie di cerchietto con lo zero del quadro delle leadership, di questa scatola di formaggini di leadership c'è il Digicomp, cioè ci sono quelle competenze digitali di base dei cittadini che ognuno di noi come dipendente pubblico si porta da casa, quindi sono quelle conoscenze che dovrebbero costituire il patrimonio di base comune. Certo, poi sappiamo che non tutti i dipendenti pubblici sono cittadini alfabetizzati digitalmente, quindi non è che dopo è scontato che tutti abbiamo questo quadro di competenze, però rispetto al syllabus quello che direi è che c'è un elemento addittivo, cioè il syllabus mi dà rispetto a quel quadro di Digicomp quella specificità di competenze di base che servono per lavorare nella pubblica amministrazione, servono a lavorare e servono a lavorare in un abito specifico che quello pubblico, quindi sono un po' come un pezzo che si colloca tra la PA digitale e le conoscenze digitali del lavoro, quindi parlare di dati, informazioni e documenti, comunicazione e condivisione, sicurezza, servizi online, trasformazione di digitale, oltre quello che è il quadro delle competenze di Digicomp che sono più generali, l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, la sicurezza e il problem solving, mi dà quel bagaglio di conoscenze di base, quindi non arriva ovviamente né alle conoscenze specialistiche, ma nemmeno a quelle conoscenze più ampiche che possono riguardare i diversi ambiti di lavoro, cioè il leadership dovrebbe un po' accrescere quelle competenze di base per dargli poi quelle capacità di agirle, di far diventare la conoscenza anche un modo di lavorare che viene esteso agli altri colleghi, che porta a progettare cambiamenti e innovazioni nei servizi, che porta anche a guidare dei progetti di innovazione. Quindi vedo il syllabus come un elemento che specifica e aggiunge ulteriori informazioni. e aspettando che arrivi il sistema di assessment ho in questo cuore che un po' espando questi diversi livelli di competenze che citava anche Valentina prima, un livello base, un livello intermedio, un livello avanzato, qui c'è una gradualità rispetto a questi contenuti di conoscenza ma anche di complessità di tematiche. Certo mi piacerebbe sapere i colleghi con i quali lavoro e sui quali dovrei anche tarare le mie proposte formative, se io sono sempre questo responsabile ipotetico della formazione di un'amministrazione, cosa sanno di questo? Quindi il syllabus è sicuramente uno strumento per dare un quadro, un modello delle competenze, ma anche lo strumento per dare un quadro e un modello per una valutazione. Quindi quello che viene chiamato assessment è che cosa sarà? Come diceva Elio Gullo, sarà un sistema di online, di erogazione, di test, di quesiti che in qualche modo per le diverse aree di competenza, per i diversi livelli di conoscenza ci permetterà in qualche modo di fare un'autovalutazione. Qui faccio un parentesi che è quella di riflettere a voce alta, certo questo so che non sarà facile nella mia amministrazione perché molti dei miei colleghi non amano essere valutati, tutte le volte che abbiamo fatto delle rilevazioni delle competenze qualche resistenza emerge, emersa e non sarà facile convincere tutti a in qualche modo farsi valutare. Certo noi diremo che questa autovalutazione è assolutamente anonima, ognuno conosce solo i suoi dati, però magari qualcuno avrà un po' di diffidenza e la diffidenza prevarrà sulla voglia di collaborare e di darsi da fare, però immaginiamo che comunque i più volenterosi si sottopongano a questa valutazione. Questa valutazione cosa aiuta? Questo è un quadro che a me piace molto, che ho preso proprio dal Digicomp, aiuta a capire quanto siamo familiari con l'ambiente acquatico oppure con l'ambiente delle tecnologie. Il livello base, cioè un livello nel quale io inizio a mettere i piedi in acqua e a bagnarmi, che è il livello delle conoscenze più elementari. So alcune cose, ho delle conoscenze, so ricordare, so ripetere, so descrivere, per chi conosce la tassonomia di Bloom un po' il senso è quello. I primi due livelli sono proprio il livello base del syllabus. Il livello 2 e 3, che sono quei livelli nei quali inizio a nuotare, mi muovo, metto anche la testa sott'acqua, magari aiutato, supportato da qualcuno, mi allontano dalla costa, quindi questo livello intermedio di conoscenze e poi ci sono questi livelli 5 e 6, che sono quelli sui quali inizio a avere una certa autonomia, posso anche aiutare qualcuno a stare in acqua, mi muovo con più disinvoltura. Ecco, il syllabus si ferma a questo livello, quello che c'è al 7 e all'8 già rientra in una parte che in certo senso o va nell'ambito del leadership, sono in grado di creare, mi attivo per fare progetti, mi attivo per fare cambiamento o addirittura entra nell'area delle competenze specialistiche, sono uno specialista di cloud, sono uno specialista di open data, sono uno specialista di gestione documentale. Quindi è importante capire un po' il il senso di questo quadro fatto da diverse aree di competenze, diverse competenze specifiche ma anche diversi livelli. Ma il risultato sarà qualcosa del genere, sarà che nell'ambito delle diverse aree tematiche del syllabus il questionario mi darà una misura, un'indicazione, non è che diventa importante sapere se sono esattamente questo o quell'altro, serve a capire in quali aree di competenza sono più forte o più debole, perché? Perché avendo questo quadro personale dopo aver fatto il test di assessment, posso decidere di investire il mio tempo per apprendere qualcosa di più, quindi magari se sono debole nell'area della sicurezza o sono meno forte sul tema della trasformazione digitale, posso andare a vedere se esistono dei percorsi formativi che in qualche modo rispondono a questi miei bisogni formativi, il famoso gap di apprendimento rispetto a un modello condiviso. Quindi quello che a regime verrà messo a disposizione dopo l'assessment sarà un catalogo di percorsi online, percorsi online che potranno riguardare temi attinenti a queste aree con magari una corrispondenza più o meno precisa rispetto al syllabus, quindi magari il proprio sistema mi dirà guarda se ti interessa il tema della trasformazione digitale, c'è un corso che si intitola Transizione Digitale che al 90% risponde un po' a quel profilo, ai tuoi gap, al 75% c'è quest'altro, quindi io potrei scegliere un corso sulla base di quanto questo mi consente di colmare i limiti di conoscenza che ho. Ma magari il sistema mi darà anche delle stellette perché nel tempo i partecipanti ai corsi avranno anche valutato questi corsi, quindi magari questo qua che è il primo, che è molto tagliato sul mio bisogno formativo, c'è una stelletta perché non è splendido come qualità didattica o come aggiornamento di contenuti, mentre il secondo che corrisponde un po' meno invece ha 4 stellette e quindi un po' come scherzando lo chiamiamo il Learn Advisor, mi dice che è meglio andare a imparare qui dentro, quindi avrò un catalogo che in qualche modo mi propone rispetto all'assessment che ho fatto, quali sono quei corsi online più adatti? Io posso scegliere, potrò fare prima questo oppure andrò a fare prima questo e sono però un soggetto isolato, l'ho fatto da solo. Se siamo un'organizzazione che magari ha chiesto a tutti i dipendenti di fare l'assessment, che ha scelto di usare il sistema di assessment come un sistema di automisurazione del capitale di competenze, magari questo profilo non sarà relativo alla singola persona, ma sarà relativo alla media di tutti i dipendenti. Poi magari qui dentro avrò anche altre statistiche, per cui oltre al valore della competenza specifica che sta in questo pallino, potrei avere anche lo scarto che mi dice quanta differenza c'è tra i miei colleghi rispetto a questo contenuto, se sono tutti a quel livello oppure se c'è una certa dispersione. Ma cosa potrei fare allora come organizzazione o come responsabile della formazione? Potrei intervenire in maniera non puntuale, non è il corso al singolo, faccio quello che dovrebbe fare ogni amministrazione che è quello di intervenire nel piano formativo, cioè fare nel piano formativo, che tra l'altro è obbligatorio, è un piano triennale, un programma dedicato al tema delle competenze digitali, quindi qualcosa che non riguarda solo un aspetto, una tematica, ma riguarda il complesso delle tematiche e riguarda anche il complesso delle persone. Un intervento formativo che non si basa solo sulla formazione online, possibilmente, nel senso che potrò magari attingere dal catalogo degli corsi, alcuni corsi che sono un mock sulla comunicazione e condivisione, i mock sono questi corsi massivi online, un altro sulla sicurezza perché queste sono le aree di maggiore debolezza, quindi per tutti facciamo un bel corso di base su queste tematiche, però poi voglio anche fare un ciclo di seminari online puntuali su quello che può essere il piano triennale, che tra l'altro è una tematica in continua evoluzione, poi magari fare un bel incontro partecipato con l'Open Space Technology per coinvolgere tutti su quella che è l'agenda digitale della nostra amministrazione e capire come è meglio approfondire certe tematiche, quindi che seminari fare in presenza puntuali dedicati a aspetti magari più critici e anche iniziare a lavorare all'interno dei laboratori su modalità anche più operative, fare formazione azione, formazione affiancamento e perché no arrivare anche a pensare a un coaching magari per i responsabili delle unità organizzative e i responsabili di progetto, qualcuno prima citava che questa formazione andrebbe fatta innanzitutto ai dirigenti, certo, ma anche con modalità diverse. Quello che voglio dire è che alla fine il pacchetto che viene fuori dal syllabus mi consente di avere una misura delle competenze della mia organizzazione sulla quale io però posso costruire un programma più complesso, quindi tutta la formazione online sarà in qualche modo lo zoccolo di base sulla quale ovviamente le amministrazioni potranno anche fare economie di scala e di scopo, quindi si farà in modo da poter riusare anche i materiali, i percorsi e i documenti, anzi questa è una cosa sulla quale finirò con un invito, ma si potranno anche fare esperienze di formazione mirata e più articolata, qualcuno chiedeva cosa faranno i responsabili della comunicazione, magari i responsabili della comunicazione faranno un percorso che parte dalle competenze di base, delle attività di formazione più tradizionale di approfondimento sui temi della comunicazione sui social media, per essere magari anche aiutati attraverso il supporto e l'affiancamento sul lavoro all'interno di progetti di comunicazione, quindi non pensiate che il syllabus e l'offerta formativa del dipartimento completi tutto, costituisce una base che consente anche di fare delle economie, ma consente anche di avere una base sulla quale condividere un modello. Aggiungo anche un'altra cosa, tornando indietro e qua mi fermo, è che con questo strumento io potrò anche valutare l'impatto della formazione, se dopo che ho fatto questo programma, questo piano, a distanza di un anno, di un anno e mezzo faccio fare di nuovo l'assessment ai miei colleghi, vedrò cosa è cambiato, vedrò se l'azione che ho fatto ha portato dei risultati, quindi se c'è stato veramente un impatto dell'apprendimento e quali altri elementi magari saranno emersi per andare avanti. Sulle domande che vedo, che si chiede se i corsi verranno realizzati da Formats PA, dico anche, in realtà qui è molto importante che ci sia una collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, quindi l'invito è che noi alcune amministrazioni che hanno già fatto esperienze simili, penso a Ampa Servizi, la regione Emilia-Romagna, Roma Capitale, le abbiamo in qualche modo seguite, ma se ci sono altre amministrazioni che hanno fatto percorsi che un po' partono dal Digicom o comunque in un'area di competenze che rientrano in quello del syllabus, vi invito caldamente di segnalarci ogni cosa, dai percorsi alle esperienze formative ai materiali, faremo in modo che ci siano anche dei materiali riusabili, quindi chi vuole potrà in qualche modo assemblare i contenuti. Vorrei anche comunque che in questa fase finale magari anche Elio e Valentina possano aggiungere qualcosa a quello che ho detto per essere magari più precisi. Non vedo altre domande, quindi chiederei a Elio se vuole di attivare la webcam per delle conclusioni. Sì, posso? Ci sono ancora delle domande sospese, uno è sull'assessment, appunto a cui ha risposto già Roberta Giappe che dice appunto i test di assessment si faranno in base alla versione definitiva del syllabus giustamente e c'è Roberta Gaeta che chiede se si prevede una consultazione anche per l'assessment. Ovviamente no, se rendiamo pubblico le domande, come si fanno a fare domande? La domanda è interessante, ma insomma la risposta è ovvia, nessuno di voi va a fare un esame sapendo prima le risposte che deve dare all'esame, insomma non sarebbe un esame, non è un esame, è un quiz ragazzi, quindi è giusto che sia non noto finché non c'entrate. Qualcun altro ha chiesto se è anonimo, intendo che, suppongo che anonimo voglia dire, il mio datore di lavoro, capo del personale della formazione o chiunque questo sia, ne può venire a conoscenza, allora mentre è sicuramente certo che viene istituito a ogni lavoratore indipendente che fa l'assessment l'esito dell'assessment stesso, riteniamo, ma lo ritengo da normale dipendente pubblico che sono come voi, se io che sono dirigente del mio ufficio devo mandare tre persone a fare un corso e quindi pagare per il loro corso, che faccio? Li mando senza sapere chi sono, devo sapere chi sono, quindi trovo elementare che il cavo del personale o il cavo della formazione debba sapere quale dei suoi dipendenti hanno partecipato e anche l'esito complessivo probabilmente, ma ovviamente come la piattaforma la possiamo toccare quando vogliamo, se un'amministrazione Alpa mi chiede, dottor Bullo mi fa in modo che io non posso sapere chi l'esito, gliela faccio tranquillamente, un click. Sul corso di formazione, l'ultima risposta che aveva dato Salvatore posso integrarla, ovvero la formazione è messa a disposizione sulla piattaforma dopo l'assessment, è gratuito o meno, ci sono vari gradi ovviamente, la mia intenzione è che siano disponibili comunque dei moduli formativi fatti dall'amministrazione, quindi dalla nostra, attraverso il form e su altri soggetti, ma non sono precursivo rispetto al mercato, quindi se alcuni contenuti sono a pagamento è un dettaglio, decide l'amministrazione cosa far fare e come capita dovunque, quando voi fate il corso di inglese l'assessment è gratuito e il corso è a pagamento, in questo caso è evidente che gran parte dei moduli saranno ovviamente gratuiti, però posso immaginare, non ho nessun accordo con nessuno, ma non mi meraviglierebbe il fatto che un pochino della formazione consueta che fanno le città di formazione e di consulenza venga orientata una volta che il syllabus è pubblico, quindi si capisce quali sono gli ambiti su cui formare le persone e che quindi possono essere offerti pacchetti formativi più completi, più verticali, che tengono insieme più aspetti, tutto questo noi vorremmo comunque dar modo, attraverso la piattaforma che pubblicheremo, in modo che sia visibile, poi l'amministrazione sceglierà, quella ricca si compra la formazione in aula e con il mentoring incluso e quella, non dico ricca, e gli altri potrebbero, altre misure potrebbero scegliere semplicemente di mettere a disposizione e di consentire ai propri dipendenti di usare il loro tempo di lavoro per fare i corsi, le pilole formative che sono gratuiti dentro la piattaforma stessa. Un secondo, c'era un'ultima domanda, certificazione, allora ovviamente non certifichiamo, la certificazione è una cosa seria e non si fa da aver risposto a un quiz con 50 domande online, quindi non noi, non la farebbe nessuno e quindi non la vogliamo fare. Io ritengo che sia utile per ciascuno di voi, qualcuno ha chiesto perché non obbligare le PA, non mi serve obbligare qualcuno, se una cosa intelligente viene fatta, se stupida non viene fatta, che la obblighi o non obblighi, in ogni caso io come funzione pubblica non ho nessun ritorno di nessun tipo, suppongo che sia, uno, un vantaggio per ciascuno di noi sapere, ma dov'è che effettivamente sono più carente, visto che posso formarmi e diventare meno carente in competenze, quindi penso che sia una normale aspirazione ciascuno di noi a non vedersi riconosciute, ma sapere di stare appunto, come diceva Salvatore Maras prima, nell'ambiente che in questo momento è sempre più digitale, nel modo più comodo possibile. Secondo, suppongo che sia un interesse dell'amministrazione fare questo, se potremmo dare successivamente degli esempi, noi abbiamo previsto, e il Fornes si aiuterà in questo e sarà un braccio armato molto forte, una serie di incontri con le amministrazioni, quindi responsabili del personale della formazione, ma che vogliamo attivare non appena sia la bus definita, in questo momento avremmo difficoltà a discutere di un argomento contenuto, quindi appena attivare il 2019, perché è evidente che una forma di sensibilizzazione dei capi del personale o responsabili della formazione è assolutamente fondamentale. Anche soltanto per, tra virgolette, dividersi i compiti, posso immaginare che molte amministrazioni possano utilizzare la piattaforma, il syllabus e quindi l'assessment per fare una specie di passaggio per tutti, cioè sottoporre tutto il loro personale all'assessment per capire qual è la situazione complessiva, per poi decidere diverse modalità di complementazione e completamento delle competenze. Non immaginiamo che la piattaforma esaurisca tutto. Io, giusto perché sono appunto molto scarso in inglese, io adesso faccio il corso di formazione con una persona, ma il test non l'ho fatto con questa persona che ho di fronte ogni giovedì dalle due e mezza alle quattro, ma l'ho fatto su tre siti internet, di tre scuole diverse, per capire prima qual è il mio livello. Poi ho fatto il quiz anche con lei. La piattaforma nostra è al stesso modo, cerca di offrire in maniera uguale per tutti i dipendenti pubblici italiani, un modo condiviso e unico per fare un test, test. Dopodiché, ciascun singolo, ciascun amministratore può scegliere quello che vuol fare. Noi offriremo anche un po' di aiuto a utilizzare i nostri moduli formativi. Nessuno è obbligato a farli, ci auguriamo che lo facciano. Se c'è qualcosa di altro, allora, Borrelli chiede, lo dico, il dipendente che vuol fare l'assessment e chiede l'autorizzazione alla propria amministrazione, la mia risposta l'ho dato all'inizio, forse lui non era collegato, è no, perché l'accesso alla piattaforma è su internet. Quindi, spero che lei abbia un browser sul suo pc, quando è sul browser non deve chiedere il permesso per andare su un sito o un altro, perfetto, il nostro sito sarà come gli altri, non c'è bisogno di chiedere il permesso. È evidente però, è evidente però, che ci potrebbero essere delle policy dell'amministrazione, non del mio sito, che fanno sì che su alcuni siti non si possa andare. Immagino che, insomma, il nostro sito non verrà bannato, lo troverei molto, diciamo, disdicevole per l'amministrazione, ma l'idea è quella che ciascun dipendente possa, quando vuole, da dovunque, fare il test, dal suo smartphone, dal suo pc di casa, dal suo pc di ufficio, quando vuole. Sarà previsto anche il sistema banale di, se le domande sono molte, mi sono arrivato qui, mi fermo e poi continuo il giorno dopo. Quindi queste sciocchezzuole non ve le devo dire. Il tempo è finito, vedo uno zero. Intanto, la mia piussura è semplicemente, intanto un grazie veramente enorme, perché quasi ora di pranzo siete circa 600, non mi aspettavo un pubblico così elevato, vi invito a, sia per voi che siete stati per un'ora e mezza qui con noi, ma anche i vostri colleghi, a chiunque fosse interessato, ad andare sulla piattaforma che il Formez ha messo su per poterla consultare il syllabus, per farci pervenire qualunque suggerimento. Noi qua in questo momento siamo a caccia di suggerimenti che ci consentono di farlo, di migliorare al più possibile il syllabus. Quindi questo è quello che vogliamo da voi. A fine dicembre lo completiamo, verrà chiusa la consultazione il 21 di dicembre, quindi c'è ancora un mese e dieci giorni da oggi. Il tempo è sufficiente. Per il resto vi ringrazio ancora e mi auguro di rivederci in un altro luogo, a presto. Grazie a tutti. Grazie Elio, grazie a tutti. Buona giornata, buon lavoro. Grazie anche da parte mia, grazie a voi relatori, grazie a tutti i partecipanti per la solita partecipazione che dimostrano e anche passione su questi temi della formazione. Ringrazio a tutti, vi do appuntamento per i prossimi webinar il 13 novembre e il 20 novembre. Potete già iscrivervi su Eventi Pia e per oggi le slide sono già online sulla pagina dell'evento e la registrazione verrà pubblicata nel pomeriggio. Grazie a tutti e buon pranzo.